Chiudete la Valfino, è il ripetuto e disperato grido del sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, in qualità di presidente di Anci Abruzzo. È necessario per D'Alberto attuare subito un cordone di sicurezza intorno ad un territorio che presenta una percentuale di contagiati da coronavirus impressionante, simile a quella della Lombardia. Lo ha fatto l'Emilia Romagna, che ha adottato una zona di protezione speciale per il comune di Medicina, che è un comune dell'area della città metropolitana di Bologna, sulla base di un dato strettamente sanitario, cioè sull'anomalia del numero dei contagi, delle situazioni di sorveglianza attiva, quindi un dato epidemiologico, su un'area ristretta. E' un po' quello che si sta verificando all'interno del nostro territorio, che è anche più piccolo se pensiamo all'area della Valfino, come area interessata, su cui noi chiediamo che sulla base di un dato strettamente sanitario, che l'autorità sanitaria regionale deve verificare, questo lo abbiamo chiesto ieri al presidente Marsiglio, che comunque si sta attivando, deve fotografare la situazione e determinare lo stato di focolaio di quell'area, bloccarla, chiuderla, impedire il flusso in entrate e in uscita anche per le attività lavorative, ora, ora. Intanto l'Asla di Teramo assicura che l'assistenza domiciliare ADI per i malati terminali, oncologici e di SLA è assicurata come sempre, anche se con procedure diverse per preservare ancora di più questi soggetti deboli dal contagio. Il servizio ADI continuerà regolarmente come prima, anzi meglio di prima, in cui assicureremo ai malati, che saranno sempre più numerosi anche di questo periodo, perché si ridurranno le prestazioni di accesso in ospedale, quindi faremo degli accessi a domicilio. Possono stare tranquilli e saranno assistiti come prima, anche meglio di prima. Al cocco di Teramo arrivano centinaia di richieste ogni giorno per i farmaci e per la spesa a domicilio. Introdotto anche il sostegno psicologico. La gente è spaventata per il numero dei decessi da Covid-19 e chiede rassicurazioni. Nei scorsi giorni abbiamo raggiunto un accordo con la direzione generale dell'Asla e quindi con il dottor Maurizio Di Giosia per il suo tramite del dottor Valerio Profeta, affinché il nostro COSC fosse dotato di due psicologi. Quali sono i disagi principali che hanno i cittadini in questo momento? I disagi sotto un profilo psicologico le persone si sentono, a parte il fatto di dover stare chiusi a casa, il fatto che la comunicazione che viene passata sui mezzi nazionali di stampa e non solo, è quella più che altro di evidenziare il numero delle morti rispetto al numero dei guariti. persone che sono sole a casa e che non hanno neanche la possibilità di poter parlare, di potersi confrontare con altre persone, probabilmente fa sì che il nostro centralino del centro operativo ci siano più richieste di persone che hanno bisogno di parlare, di confrontarsi e anche di avere un momento per tranquillizzarsi. L'emergenza coronavirus non interrompe però la procedura di assegnazione delle case ATER per gli sfollati di Teramo. Il Comune sta procedendo speditamente. Stiamo inviando, alcune sono partite anche in questa mattina, le raccomandate, appunto per la comunicazione alle famiglie, che dovranno adesso accettare. Ovviamente l'accettazione può avvenire sia in forma, diciamo così, telematica, ma anche con la presenza, con la consegna dell'accettazione al protocollo del Comune. Noi vogliamo assolutamente evitare che ci possano essere spostamenti da parte di queste famiglie, quindi con il supporto del COC e dei nostri uffici abbiamo attivato una sorta di procedura che ci porterà ad andare a ritirare materialmente queste domande per evitare che i cittadini si debbano spostare.